Il campore del canto, ecco, numero uno, Marcello Volpi, sul palco, numero due, Roberto Casavecchi, numero tre, Massimo De Canis, numero quattro, Francesco. Ok, 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 ok. Allora, 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 per favore, per favore, un po' di attenzione. Capisco che la competizione è elevata, comprendo che siete atleti di lungo corso e viaggiati. L'unica cosa che vi chiedo è un po' di attenzione, altrimenti i risultati... ... Ok, allora, rilassare l'interno di un po' di tempo. Nuovamente pronta. Ok, allora, ora iniziamo con le voce di muscolatura. Siamo fronti. Asi a voi, c'è questa. Dobri obiettivi. Torvaldi. Ok, bianco destro. Espansione dorastica. Triciclo. Ok, di schiena. Torvaldi. Torvaldi. Ok, CMDR. Pianco sinistro, espansione torace, nuovamente frontali, addominali e gambo. Ok, un attimo rilassati, rilassati, quindi anche loro, nonostante i muscoli della loro forza, hanno bisogno di un tempo di recupero. Ok, se siete pronti, ci rimettiamo sul... Allora, per cortesia. Allora, scusa, scusa, numero tre, numero tre un po' più largo. Ok, allora, gentilmente, sei il numero uno, si può mettere in mezzo. Gentilmente, frontali, una nuova, un'altra volta. Se gentilmente il numero due si può accomodare sul fondo palco, può venire avanti il numero cinque. Pianco con medico Pianco con medico Torali Grazie a tutti.